I brani di Gosho utilizzati in questa lezione Il Daimoku come seme della buddhita Studio di giugno 2014 Vedendo questa tua determinazione Non posso fare a meno di ricordare il defunto Ueno Ho ricevuto il carico di Tari, le castagne, il riso essiccato e lo zenzero Nei profondi recessi di queste montagne nessuno coltiva i Tari Le castagne non maturano mai e nemmeno lo zenzero è in grado di germogliare E naturalmente il riso essiccato non si è mai visto Se ad esempio le castagne dovessero maturare Le scimmie rovinerebbero i rami e le cime degli alberi Nessuno coltiva i Tari ma se qualcuno lo facesse Poiché la gente mi detesta Nessuno me ne darebbe Perché mai sarò venuto a stare su una montagna così alta? Guardando la montagna vediamo che dalla vetta ai piedi gradualmente essa si abbassa Guardando il mare vediamo che diventa gradualmente sempre più profondo Guardando il mondo lo vediamo gradualmente declinare anno dopo anno Da trent'anni fa a venti, cinque, quattro, tre, un anno fa Ed è così anche per la mente delle persone Adesso quando un'epoca volge al termine Sui fianchi della montagna rimangono solo alberi contorti E nei campi cresce solo erba bassa Nel mondo i saggi sono pochi Mentre gli stolti abbondano Sono come mucche e cavalli Che non sanno mai chi sia il loro padre O come lepri e pecore Incapaci di riconoscere le loro madri Sono trascorsi più di 2200 anni dall'estinzione del Buddha Adesso siamo nell'ultima epoca In cui gli uomini saggi pian piano non si vedono quasi più Come montagne che digradano O erba che diventa sempre più bassa Anche se molti recitano il Nembutsu O abbracciano i precetti Ben pochi si affidano al Sutra del Loto Anche se vi è una moltitudine di stelle Esse non riescono a illuminare il grande mare Anche se i fili d'erba sono moltissimi Non diventeranno mai come colonne del palazzo imperiale Allo stesso modo Anche se si recita molte volte il Nembutsu Esso non sarà mai il sentiero per il conseguimento della Buddità E anche se si abbracciano i precetti Non saranno mai il seme per la rinascita in una pura terra Solo i sette caratteri Sono il seme per conseguire la Buddità Quando parlo in questo modo La gente mi odia e mi respinge Ma il defunto Ueno Credette E così conseguì la Buddità Tu sei della sua stirpe E perciò sono certo che riuscirai a portare avanti la tua determinazione Non è forse questo che si intende dicendo Che un acaro attaccato alla coda di un cavallo Può volare per mille miglia E che l'edera che cresce intorno a un pino Può raggiungere un'altezza di mille piedi Ognuno di voi possiede lo stesso cuore del defunto Ueno Un uomo che offrì una torta di fango al Buddha Rinacque come un re Poiché il Sutra del Loto è un insegnamento superiore al Buddha Come potresti tu Che hai fatto offerte al Sutra Non godere di benefici in questa vita E conseguire la Buddità nella prossima? Inoltre Siccome sei povero Non hai servi E le montagne e i fiumi sono pieni di ostacoli Anche se la tua decisione è salda Può essere difficile riuscire a metterla in pratica Ma a giudicare dalla determinazione Che stai dimostrando adesso Vedo che è qualcosa di veramente non comune Non c'è dubbio che le dieci fanciulle demoni del Sutra del Loto Ti proteggeranno Come era sicurante pensarlo Mi è impossibile dirti tutto ciò che desidererei Lezione di Daisaku Ikeda Cosen Rufu L'epopea della determinazione vittoriosa Ogni anno a luglio Mi ritorna alla mente quella torrida estate del 1957 a Osaka Il 3 luglio ero stato arrestato sotto la falsa accusa di aver violato le leggi elettorali In quello che poi divenne famoso come l'episodio di Osaka Per interrogarmi Prima mi misero in cella nel distretto di polizia E poi fui confinato nel centro di detenzione di Osaka Per due settimane combattei una battaglia solitaria dietro le sbarre Completamente isolato dal mondo esterno Ma ero profondamente grato di non essere solo a lottare in quei momenti Migliaia e migliaia di compagni di fede si preoccupavano del mio benessere come se fosse il loro E pregavano ardentemente per la mia protezione Ogni giorno appartenenti alla divisione donne mi recapitavano pacchetti con generi di prima necessità Mentre altri membri che volevano a tutti i costi far sentire il loro sostegno Si recavano presso la centrale di polizia o al centro di detenzione Per esprimere alle autorità la loro indignazione per il mio ingiusto arresto Più di ogni altra cosa fui commosso dalle parole del mio maestro Il secondo presidente della Soka Gakkai, Josei Toda Che incontrai all'aeroporto a Neda di Tokyo Subito prima che mi arrestassero e che mi esortò così Ti prego non morire Per favore non morire E profondamente emozionato aggiunse Da Isaku Se tu dovessi morire io correrò al tuo fianco Mi getterò sopra di te e ti accompagnerò nella morte Ero preparato ad affrontare qualsiasi cosa Anche la più assurda Per proteggere un così grande maestro Le autorità cercavano di reprimere la Soka Gakkai Che stava fiorendo come un nuovo movimento popolare in ascesa Capace di costruire legami di solidarietà fra i cittadini comuni Tentando di distruggere le basi della nostra unità Specialmente nel Kansai E una parte dei mezzi di informazione animata da intenti maligni Collaborava dipingendo la Soka Gakkai come un'organizzazione antisociale Lavorare per la felicità delle persone A quell'epoca la Soka Gakkai era criticata ed asprezzata Come una cozzaglia di poveri e malati Ma chi nella società se non la Soka Gakkai Si stava impegnando per aiutare i poveri e i malati? Chi si univa alle persone nella dura battaglia contro le avversità Dialogando direttamente con ognuna di loro Incoraggiandole senza sosta Con la promessa che sarebbero riusciti a trasformare il karma in missione E ad aprirsi una strada verso la felicità e la vittoria? La Soka Gakkai aveva intrapreso questa difficilissima impresa Praticando esattamente come insegnava Nichiren Daishonin Cioè lottando anima e corpo per rispettare e valorizzare tutte le persone Considerando ognuna di loro come un tesoro prezioso Le forze autoritarie cercano di usare le persone come pedine Muovendole a loro piacimento per fini egoistici Questa è anche l'essenza di ciò che il buddismo chiama il demone del sesto cielo Detto anche colui che gode liberamente delle creazioni illusorie degli altri La personificazione dell'oscurità fondamentale intrinseca nella vita L'approccio del buddismo di Nichiren è l'esatto opposto di simili forze autoritarie È incentrato sul cuore di ogni individuo e ne illumina l'essenza della vita Il suo potenziale infinito di bontà, l'indistruttibile natura di Buddha La Soka Gakkai è una grande rete umana costruita sulle fondamenta di legami individuali di fiducia reciproca E i suoi membri si sforzano di connettere i cuori delle persone per farle sentire più vicine Ogni persona è oltremodo importante e ha una missione incredibilmente nobile Leggendo il Gosho notiamo come Nichiren Daishonin posi costantemente il suo sguardo compassionevole sulla vita e sulla mente di ogni singolo individuo L'enorme impresa di Kosen Rufu non può esistere separata dalle azioni compassionevoli per il benessere degli altri E dagli sforzi per unire i cuori delle persone In questa lezione studiamo il Daimoku come sede della buddhità per imparare l'essenza dell'umanesimo del buddismo di Nichiren Vedendo questa tua determinazione nel fare questa offerta non posso fare a meno di ricordare il defunto Ueno Ho ricevuto il carico di Tari, tubero farinoso simile alla patata, le castagne, il riso essiccato e lo zenzero Nei profondi recessi di queste montagne di Minobu nessuno coltiva i Tari Le castagne non maturano mai e nemmeno lo zenzero è in grado di germogliare E naturalmente il riso essiccato non si è mai visto Se ad esempio le castagne dovessero maturare le scimmie rovinerebbero i rami e le cime degli alberi Nessuno coltiva i Tari ma se qualcuno lo facesse, poiché la gente mi detesta, nessuno me ne darebbe Perché mai sarò venuta a stare su una montagna così alta? Lodare la fede di un praticante solitario Il Daimoku come seme della buddità è una lettera scritta dal monte Minobu a un discepolo laico di nome Kuro Taro La prima frase, vedendo questa tua determinazione nel fare questa offerta Non posso fare a meno di ricordare il defunto Ueno In realtà è un po' scritto che il Daishonin aggiunse nello spazio vuoto rimasto in cima alla carta Dopo aver ultimato il testo della lettera Il defunto Ueno è Nanjo Yoe Shichiro Il nome Ueno deriva dal villaggio in cui risiedeva Padre di Nanjo Tokimitsu Nella seconda parte della lettera il Daishonin accenna alla parentela fra Kuro Taro e il defunto Ueno Dicendo tu sei della sua stirpe Nanjo Yoe Shichiro era un amministratore che governava il villaggio di Ueno nel distretto di Fuji Della provincia di Suruga L'attuale parte centrale della prefettura di Shizuoka Non si sa esattamente quando abbia iniziato a praticare gli insegnamenti di Nichiren Tuttavia, essendo alle dipendenze del governo di Kamakura Fu chiamato nella capitale per il servizio militare E probabilmente in quel periodo entrò in contatto con il Daishonin Nel dicembre 1264 il Daishonin aveva inviato un caldo incoraggiamento a Nanjo Yoe Shichiro Che era ammalato Incoraggiamento a una persona malata L'unica lettera lui indirizzata giunta fino a noi In cui lo ammoniva severamente a non avere due menti Pur avendo abbracciato la fede nel Sutra del Lotto La preoccupazione per la malattia aveva tentato Yoe Shichiro Di ritornare alla sua precedente pratica del Nembutsu E il Daishonin desiderava aiutarlo a superare i suoi dubbi E a continuare sul sentiero corretto della fede Nella lettera lo incoraggia a vivere fino in fondo Come un discepolo del prete Nichiren Il primo devoto del Sutra del Lotto del Giappone Nanjo Yoe Shichiro seguì alla lettera le istruzioni del Daishonin Continuando ad abbracciare la fede nella legge mistica E morì serenamente poco dopo Il suo aspetto fisico manifestava chiaramente i segni del conseguimento della Buddità Sua moglie, la monaca laica di Ueno E i figli, fra cui Nanjo Tokimitsu Ereditarono la sua sincera dedizione alla fede E praticarono l'insegnamento del Daishonin per tutta la vita Questo breve poscritto rivela la profondità dell'eterno legame Fra maestro e discepolo Che univa il Daishonin a Nanjo Yoe Shichiro Una profonda gratitudine per un prezioso dono di cibo Nella prima parte del testo il Daishonin elenca gli alimenti che ha ricevuto in offerta da Kuro Taro Tari, castagne, riso essiccato e zenzero Ed esprime il suo profondo apprezzamento spiegando quali rarità rappresentassero in quel luogo sperduto che era Minobu Parla di ogni offerta in maniera sorprendentemente dettagliata Un'espressione di profonda gratitudine per Kuro Taro Che, preoccupato per le condizioni di vita del Daishonin in quel luogo impervio Gli aveva inviato del cibo prima dell'inizio dell'inverno All'approssimarsi dei rigori invernali, infatti, le strade sarebbero state troppo pericolose per viaggiare E ben poche persone sarebbero riuscite a visitarlo o a inviargli i provviste Nella zona montuosa di Minobu il cibo scarseggiava e anche se le persone del luogo coltivavano i Tari Probabilmente non erano inclini a dividerli con il Daishonin Di conseguenza le offerte dei seguaci che vivevano altrove erano cruciali per la sua sopravvivenza Ma anche molti dei suoi discepoli non se la passavano bene L'inizio di novembre, quando la lettera fu scritta, era subito dopo il raccolto del riso E il fatto che Kuro Taro avesse inviato riso essiccato Riso che veniva tostato per conservarlo per i tempi difficili Invece di quello del nuovo raccolto, fa pensare che anche lui stesse attraversando qualche difficoltà economica Lo zenzero era un cibo dalle proprietà medicinali e senza dubbio Kuro Taro l'aveva inviato al Daishonin Sinceramente preoccupato per la sua salute durante l'inverno Inoltre Kuro Taro era della provincia di Suruga Una zona amministrata direttamente dal clan reggente degli Ojo E quindi un luogo in cui le forze ostili al Daishonin erano particolarmente influenti Con il diffondersi degli insegnamenti del Daishonin I conflitti si estesero nella regione del Fuji di Suruga Dove abitavano non solo i Nanjo ma anche molti discepoli convertiti Grazie agli sforzi nella propagazione di Nikko e di altri discepoli E infine si verificò la persecuzione di Azuara Praticare i suoi insegnamenti in simili circostanze doveva essere estremamente difficile E il Daishonin era perfettamente consapevole delle numerose difficoltà che incontravano i suoi seguaci Rispondere alla sincerità con la sincerità Esiste un'altra lettera inviata dal Daishonin a Kuro Taro Risposta a Kuro Taro Nella quale lo ringrazia sempre per un'offerta di Tari Nel messaggio di accompagnamento Kuro Taro doveva aver scritto che non si trattava di niente di speciale Ma il Daishonin esprimendogli la sua immensa gratitudine Gli risponde che quei Tari per lui che abitava in un luogo come Minobu Erano veramente una cosa rara e preziosa Pienamente consapevole della premura e degli sforzi indescrivibili che ognuno dei suoi seguaci Persone comuni colme di grande dedizione impiegavano per inviargli offerte Il Daishonin rispondeva sempre con calde parole di riconoscenza e incoraggiamento Apprezzando dal profondo del cuore ogni persona Oltre a seguaci che godevano di una buona posizione sociale come Nanjo Tokimitsu, Shijo Kingo e Tokijonin Ai quali scrisse molte lettere Il Daishonin aveva anche molti altri seguaci uniti a lui da legami cuore a cuore Dei quali abbiamo scarse notizie Numerose persone cercavano il Daishonin e praticavano i suoi insegnamenti Con silenziosa dedizione e devozione Il Daishonin non sottovalutava mai i nobili sforzi dei suoi discepoli Al contrario attribuiva loro un grande valore Li lodava e li incoraggiava con tutto il cuore Rispondere alla sincerità con la sincerità Questo è lo spirito umanistico del buddismo di Nichiren Che ognuno di noi dovrebbe sforzarsi di coltivare Guardando la montagna vediamo che Dalla vetta ai piedi gradualmente essa si abbassa Guardando il mare vediamo che diventa gradualmente sempre più profondo Guardando il mondo lo vediamo gradualmente declinare anno dopo anno Da trent'anni fa a venti, cinque, quattro, tre, un anno fa Ed è così anche per la mente delle persone Adesso quando un'epoca volge al termine Sui fianchi della montagna rimangono solo alberi contorti E nei campi cresce solo erba bassa Nel mondo i saggi sono pochi Mentre gli stolti abbondano Sono come mucche e cavalli Che non sanno mai chi sia il loro padre O come lepri e pecore Incapaci di riconoscere le loro madri Un'epoca in cui la mente delle persone È distorta e confusa Le montagne digradano dalla vetta alle pendici inferiori E il mare allontanandosi dalla riva Diventa sempre più profondo Allo stesso modo, dice il Daishonin Con il passare del tempo La mente e la forza vitale delle persone Gradualmente declinano Ciò riflette un punto di vista diffuso Ai tempi del Daishonin Basato sul concetto di Kalpa della diminuzione Il Kalpa della diminuzione Descritto nelle scritture buddiste È un lasso di tempo All'interno del ciclo di cambiamento A cui un mondo è sottoposto Dalla nascita fino alla distruzione In cui la durata della vita umana Gradualmente diminuisce Il Daishonin sostiene Che la causa di questo declino È l'aumento di intensità Dei tre veleni di avidità Collera e stupidità Ai tempi del Daishonin L'accorciarsi della vita delle persone Doveva essere Doveva Doveva una essere Una realtà ben presente Che destava preoccupazione La prima invasione mongola Del 1274 Che aveva appena avuto luogo Fu un evento grave Che seminò terrore e incertezza Nel cuore dei giapponesi E inoltre le ripetute epidemie E carestie Avevano causato la morte Di moltitudini di persone Il paese era in lutto Per la perdita in guerra Di gran parte Delle giovani generazioni E per la morte Dei bambini più piccoli Per malattia o per fame Il Daishonin Sentiva intensamente Il dolore Che affliggeva la popolazione In questo passo scrive Ed è così anche Per la mente Delle persone Affermando che ormai Rimangono solo alberi contorti Ed erba bassa Intende che lo spirito Delle persone È diventato distorto Che c'è una grave mancanza Di leader competenti Che l'etica E i principi morali Versano in una totale confusione E che le persone Impiegano il loro tempo In conflitti e dispute Meschine In questa società Corrotta e caotica Spiega Non ci sono più persone Sagge E la situazione Non fa che diventare Sempre più buia E travagliata Il Daishonin Usa la metafora Del non conoscere I propri genitori Come esempio Della stupidità Che prevale In quest'epoca problematica Dell'ingratitudine Generalizzata Che deriva Dall'ignorare La forma più immediata E basilare di gratitudine Quella nei confronti Dei propri genitori Non sapere Come si è venuti Al mondo Ignorare Questo profondo Nesso causale Nella propria vita Non significa Solo non avere Gratitudine Per i propri genitori Ma coinvolge Ogni forma Di gratitudine Compresa Quella Per tutti gli esseri Viventi E per il proprio maestro Tale assenza Di senso Di gratitudine Rappresenta Il declino E la rovina Della propria umanità Shakyamuni Predicò Il Sutra Del Loto Per permettere A tutte le persone Dell'ultimo giorno Della legge Un'epoca Macchiata Dalle cinque impurità Di ottenere L'illuminazione Affidando Al devoto Del Sutra Del Loto La propagazione Del suo supremo Insegnamento Nel prossimo passo Il Daishonin Getta luce Sull'insegnamento Fondamentale Del Sutra Del Loto Che permette Agli esseri umani Di condurre La vita più nobile Che ci sia Sono trascorsi Più di 2200 anni Dall'estinzione Del Buddha Adesso Siamo nell'ultima Epoca In cui Gli uomini Saggi Pian piano Non si vedono Quasi più Come montagne Che digradano O erba Che diventa Sempre più Bassa Anche se Molti Recitano Il Nembutsu O abbracciano I precetti Ben pochi Si affidano Al Sutra Del Loto Anche se Vi è una Moltitudine Di stelle E se Non riescono A illuminare Il grande mare Anche se I fili D'erba Sono moltissimi Non diventeranno Mai Colone Del palazzo Imperiale Allo stesso Modo Anche se Si recita Molte volte Il Nembutsu Esso non sarà mai Il sentiero Per il conseguimento Della buddhità E anche se Si abbracciano I precetti Non saranno mai Il seme Per la rinascita In una pura terra Solo i sette caratteri Dinamyo Renge Kyo Sono il seme Per conseguire La buddhità La legge mistica È il seme Della buddhità Per tutti Il Deishonin Scrive Sono trascorsi Più di 2220 anni Dall'estinzione Del buddha L'epoca In cui Visse Il Deishonin Era l'inizio Dell'ultimo giorno Della legge Un periodo Molto posteriore A quello Di Shakyamuni Poiché Era trascorso Così tanto Tempo Da quando Il buddha Aveva esposto L'insegnamento Corretto La maggior parte Delle persone Non sapeva più Dove ricercare L'origine Di quegli insegnamenti E anche I saggi In grado Di comunicare Lo spirito Dell'insegnamento Corretto Erano ormai Scomparsi Di conseguenza Osserva Il Deishonin Ben pochi Portavano avanti L'intento Originale Del Buddha E mettevano In pratica Il suo spirito Invece Un numero Crescente Di persone In tutto Il Giappone Rifiutando Questo mondo Pieno di sofferenza E cercando Di abbandonarlo Si erano Rivolte Alla pratica Nembutsu Per la rinascita In una pura Terra Ultramondana Oppure Mantenevano Una pratica Formale Abbracciando Vari Precetti Buddhisti Riferendosi A tale Situazione Il Deishonin Fa questo Parallelo Anche se Vi è una Moltitudine Di stelle Esse non Riescono A illuminare Il grande Mare Anche se I fili D'erba Sono moltissimi Non diventeranno Mai colonne Del palazzo Imperiale Intende Che per quanti Aderenti Possano avere Gli insegnamenti Errati Non potranno Mai Costituire Né Una profonda Fonte D'illuminazione In grado Di dissolvere L'oscurità Della sofferenza Umana Né Un pilastro Di sostegno Capace Di offrire Alle persone Un'autentica Pace Interiore Di conseguenza Rivestono Una grande Importanza Il sistema Di pensiero O la filosofia Adottate Dai governanti O Nelle nostre Società Democratiche Da ogni Cittadino Dottato Di sovranità Qual è dunque Il desiderio Essenziale L'intento Originale Del Buddha Che non dovremmo Mai perdere Di vista Indipendentemente Dal mutare Dei tempi È il desiderio Che tutte le persone Ottengano L'illuminazione Come spiega Il Sutra Del Loto È il desiderio Di mettere in grado Chiunque Di rivelare La propria natura Di Buddha E realizzare La condizione Vitale Di Buddità Per sperimentare Liberamente E pienamente La felicità E aiutare Gli altri A fare lo stesso In questa lettera Il Daishonin Spiega Che gli insegnamenti Errati Dei suoi giorni Che trascurano L'intento originale Del Buddha Non potranno Mai costituire Il sentiero Per il conseguimento Della Buddità O il seme Per la rinascita In una pura terra E dice A Kuro Taro Solo i sette caratteri Di Namioreng E Kyo Sono il seme Per conseguire La Buddità In altre parole Spiega Che la legge mistica È il seme Della Buddità Cioè la causa Per l'ottenimento Dell'illuminazione Inoltre La sua affermazione Che il Sutra Del Loto È un insegnamento Superiore al Buddha Indica Che anche tutti I Buddha Delle dieci direzioni E delle tre esistenze Ottengono L'illuminazione Grazie alla legge mistica Tutto Sorge Da questo seme Fondamentale Per inciso Alcuni semi Di lotto Ritrovati Dopo essere Rimasti Sepolti Nel terreno Per millenni Sono stati Fatti germinare E hanno prodotto Fiori puri E bellissimi Per esempio Il lotto Di oga Di ciba O altre piante Di lotto Nate da questi Semi antichissimi Sono ora Esposte Nella città Di Gioda A Saitama E in altri Luoghi Quando si presentano Le giuste Condizioni Un seme Manifesta La sua natura Intrinseca Anche l'albero Più alto Che si innalza Verso il cielo È nato Da un minuscolo Seme Un seme Dottato Di un potenziale Enorme Il seme Della buddhità In particolare Produce Immancabilmente La fioritura Della natura Di buddha Il seme Della buddhità Namiorenghe Chio Fa sbocciare Il grande fiore Di Mioorenghe Il loto Della legge mistica Nella profondità Della nostra vita E ci permette Di far emergere Fiori di felicità E di vittoria Per noi E per gli altri Senza essere Limitati Da alcuna Difficoltà O sofferenza Il sutra Del loto Afferma I semi Della buddhità Germogliano Tramite La causalità Come coloro Che inizialmente Aspirano Alla via Possono conseguire La buddhità Attraverso Il sutra Del loto Il daishonin Scrive Poiché Ha ascoltato Il sutra Del loto Che conduce Alla buddhità Ha ricevuto Il seme E sicuramente Diventerà Un buddha Attraverso Il dialogo Da persona A persona Parliamo Agli altri Dell'essenza Del sutra Del loto Nammyo Renge Chio Permettiamo Loro Di udirla E di farla Risuonare Nelle loro Vite Così facendo Aiutiamo Sempre più Persone A creare Un legame Con il buddismo Di Nichiren I nostri Sforzi Di propagazione Costituiscono La sfida Di piantare Il seme Della buddhità Della legge Mistica Nella vita Delle persone Nel Giappone Dei suoi giorni Un paese Dell'ultimo giorno Della legge In cui l'insegnamento corretto Del buddha Shakyamuni Era del tutto Scomparso E prevaleva L'offesa Alla legge Il Daishonin Identificò Nello Shakubuku Il metodo Corretto Di propagazione Impiegando Questo metodo Che implica La refutazione Dell'errato E la rivelazione Del vero Invariabilmente Si viene Perseguitati Dai tre potenti Nemici Come indica Il Daishonin Nei molti Dei suoi scritti E anche nel passo Seguente Dove descrive Come le persone Lo odino Per la sua pratica Buddista Sincera E si rifiutino Di accettare Il suo insegnamento Quando parlo In questo modo La gente Mi odia E mi respinge Ma il defunto Ueno Credette E così Conseguì La buddità Tu sei Della sua stirpe E perciò Sono certo Che riuscirai A portare avanti La sua determinazione Non è forse Questo Che si intende Dicendo Che un acaro Attaccato Alla coda Di un cavallo Può volare Per mille miglia E che l'edera Che cresce Intorno a un pino Può raggiungere Un'altezza Di mille piedi Ognuno di voi Possiede Lo stesso cuore Del defunto Ueno Un uomo Che offrì Una torta Di fango Al buddha Rinacque Come un re Poiché Il sutra Del loto È un insegnamento Superiore Al buddha Come potresti Tu Che hai fatto Offerte Al sutra Non godere Di benefici In questa vita E conseguire La buddità Nella prossima Portare avanti Il proprio Impegno Di fede Il defunto Ueno Nanjo Ioè Shichiro Abbracciò Per la prima volta Il sutra Del loto Nel periodo In cui Il daishonin Era bersagliato Da feroci Persecuzioni Come predetto Nel passo Che afferma E poiché Odio E gelosia Nei confronti Di questo sutra Abbondano Perfino Mentre Il tatagata È nel mondo Quanto peggio Sarà Dopo la sua Scomparsa E fu Proprio In un momento Così Difficile Che Ioè Shichiro Abbandonò La pratica Nembutsu Per diventare Un discepolo Del daishonin Inoltre Come si accennava Prima Ioè Shichiro Era un vassallo Del governo Di Kamakura Con un feudo Nella provincia Di Suruga Dove Influenti Membri Del clan Ojo Possedevano Vaste tenute Quando accettò Gli insegnamenti Del daishonin Non solo La sua famiglia E i parenti Ma tutti coloro Che lo conoscevano Reagirano Con sorpresa E si opposero Alla sua scelta Essendo L'unica A praticare Nella sua famiglia Sicuramente Si sarà Sentito Combattuto E avrà dovuto Affrontare Molte difficoltà Tuttavia Grazie All'attenta guida E all'incoraggiamento Del daishonin Rimase Saldo Nella sua fede Fino alla morte Nel marzo 1265 Il daishonin Fece Personalmente Visita La sua tomba In una lettera Successiva L'inferno È la terra Della luce tranquilla Indirizzata La vedova La monaca Laica Ueno Madre di Nanjo Tokimitsu Scrive Poiché il tuo Defunto marito Era un devoto Di questo sutra Egli ha Senza dubbio Conseguito La buddità Così come era E in un'altra lettera L'offerta Di una torta Di fango Indirizzata Tokimitsu Scrive Anche se il tuo Defunto padre Era un guerriero Samurai Aveva una ferma Fede nel sutra Del loto E dunque Io so Che negli ultimi Momenti Della sua vita Il suo Atteggiamento Interiore Era quello Di un vero Credente Letteralmente Nel momento Della morte Mantiene una mente Salda E corretta Tokimitsu Tokimitsu Aveva circa Sei anni Quando il padre Morì Ma l'esempio Che questi Gli diede Perseverando Nella sua pratica Buddista Fino al termine Della sua vita Si impresse Nel suo Giovane cuore Anche Kuro Taro Essendo parente Di Nanjo Era a conoscenza Della morte Serena Di Io e Nanjo Shichiro In questa lettera In questa lettera Il Daishonin Gli dice Tu sei della sua stirpe E perciò sono certo Che riuscirai a portare Avanti la tua Determinazione Sta esprimendogli La speranza E la fiducia Che come suo Congiunto Avrebbe seguito Le orme Dio Esci Ciro Nel cammino Della fede I legami Basati Sulla comune Decisione Di dedicare La vita Al grande voto Di propagare Il sutra Dell'otto Sono belli Nobili E degni Di onore Questa decisione Questo impegno Non deve fermarsi A un solo individuo O a una sola Generazione L'ardente senso Di missione Nella fede Viene trasmesso Da una persona All'altra Da una generazione A quelle future Formando un tessuto Di fili orizzontali E verticali In quel meraviglioso Razzo di speranza Che è Cosen Rufu Quando leggo Questi passi Mi vengono in mente I volti Di tanti indimenticabili Pionieri Del primo periodo Del nostro movimento Che lottarono Insieme a me Nella buona E nella cattiva sorte Saranno al mio fianco Finché vivrò E per tutta l'eternità E oggi I loro figli I nipoti E gli altri Giovani successori Nella nostra organizzazione Stanno portando avanti L'impegno solenne Di quelle donne E di quegli uomini Pieni di dedizione Seguendo con costanza Le loro orme Niente mi rende più felice Di venire a sapere Che i pionieri Di quei primi giorni Continuano a godere Di buona salute E di vitalità Quando mi giungono Quando mi giungono Loro notizie Invio immediatamente Un messaggio Per incoraggiarli Con calore Con calore Prendo anche Con tutto il cuore Per i loro familiari Amici e persone care Affinché godano Di fortuna Benefici E di vite lunghe E piene di soddisfazione Vivere Basandosi Sulla legge Fondamentale Dell'universo Facendo riferimento A due famosi Proverbi orientali Il Deishonin Incoraggia Così Kuro Taro Non è forse Questo Che si intende Dicendo Che un acaro Attaccato Alla coda Di un cavallo Può volare Per mille miglia E che l'edera Che cresce Intorno a un pino Può raggiungere Un'altezza Di mille piedi Questo brano Ricorda Un passo Simile Del trattato Adottare L'insegnamento Corretto Per la pace Nel paese Una mosca Blu Se si posa Sulla coda Di un buon cavallo Può viaggiare Diecimila miglia E la verde Edera Che si abbarbica Intorno al possente Pino Può crescere Fino a mille piedi Molti membri Possono attestare Personalmente La validità Di questi detti Grazie alle loro Esperienze Di essere diventati Più felici Di quanto avrebbero mai Immaginato Attraverso la pratica Del buddismo Di Nichiren E le attività Per realizzare Il grande voto Di Kosen Rufu Insieme alla Soka Gakkai L'organizzazione Fedele all'intento E al mandato E al mandato Del Buddha Le parole Ognuno di voi Possiede lo stesso cuore Del defunto Ueno Vogliono significare Che Kuro Taro E gli altri familiari E parenti Di Nanjo Yohashi Che praticavano Che praticavano gli insegnamenti Del Daishonin Stavano portando avanti La loro fede Con la stessa determinazione E lo stesso impegno Del defunto La frase seguente Un uomo che offrì Una torta di fango Al Buddha Rinacque come un re Riguarda la storia buddista Del ragazzo Virtù vittoriosa Che per aver offerto Una torta di fango A Shakyamuni Rinacque in seguito Come re a Soka Senza dubbio Nello spirito dimostrato Da Kuro Taro Nell'inviargli offerte Il Daishonin Ravvisò una sincerità Paragonabile A quella Del ragazzo Virtù vittoriosa Fare offerta Nichiren Daishonin Il devoto Del sutra del loto Che propaga il sutra Senza risparmiare La propria vita Significa fare offerta La legge mistica Che è il seme O la causa Dell'illuminazione Di tutti i Buddha Il Daishonin Loda così Kuro Taro Poiché il sutra Del loto È un insegnamento Superiore al Buddha Come potresti tu Che hai fatto Offerte al sutra Non godere Di benefici In questa vita E conseguire La buddità Nella prossima Inoltre Siccome sei povero Non hai Servi E le montagne E i fiumi Sono pieni Di ostacoli Anche se la tua Decisione È salda Può essere difficile Riuscire a metterla In pratica Ma A giudicare Dalla determinazione Che stai dimostrando Adesso Vedo che è qualcosa Di veramente Non comune Non c'è dubbio Che le dieci Fanciulle Demoni Del sutra Del loto Ti proteggeranno Com'è rassicurante Pensarlo Mi è impossibile Dirti Tutto ciò Che desidererei Con profondo Rispetto Nichiren Tradurre La decisione In azione Dalle parole Del Daishonin Sembrerebbe Che Kuro Taro Versasse In difficoltà Economiche Forse Era A malapena In grado Di mantenere La sua famiglia In simili circostanze Aver deciso Di inviare Un'offerta Al Daishonin E aver fatto In modo Che gli fosse Consegnata Fin solte Fin sul monte Minobu È veramente Notevole In ogni situazione Decidere di agire Per mettere in pratica La propria decisione Può sembrare Semplice Ma in realtà È piuttosto Difficile Noi Essere umani Siamo deboli Spesso Prendiamo decisioni Che non siamo Capaci Di portare Fino in fondo Troviamo Ogni sorta Di scuse E di motivi Per rimandare E alla fine Mancando Di determinazione Non mettiamo Mai in atto La nostra decisione A quei tempi Doveva essere Davvero difficile Fare offerte Al devoto Del sutra Del loto E sostenere La grande opera Di cosen Eppure Kuro Taro Lo fece Il Daishonin Scrive Anche se la tua Decisione È salda Può essere Difficile Riuscire A metterla In pratica Ma A giudicare Dalla determinazione Che stai Dimostrando Adesso Vedo Che è qualcosa Di veramente Non comune Non c'è dubbio Che le dieci Fanciulle Demoni Del sutra Del loto Ti proteggeranno Come era Assicurante Pensarlo Avendo Deciso Di sostenere Il Daishonin Kuro Taro Superò Ogni ostacolo Pur riuscire A fargli avere Le sue offerte Sul monte Minobu Il Daishonin Si rese Conto Di quanto Doveva essere Stato difficile E lo lodò Sinceramente Dicendo Che la sua Determinazione Era qualcosa Di veramente Non comune Rassicurandolo Che le forze Benevole Dell'universo Lo avrebbero Sicuramente Protetto Non posso fare A meno Di sentire Che le parole Veramente Non comune Sono perfette Anche per Descrivere Gli sforzi E la dedizione Dei nostri Attuali membri Della Soka Gakkai Che stanno Dimostrando Una determinazione Incrollabile Lavorando Instancabilmente Per Cosen Rufo Con il sole Il vento E la pioggia Sono certo Che il Daishonin È consapevole Di tutto Il nostro Duro lavoro Sforziamoci Nella fede Con tenacia Il 17 luglio 1957 Quando fui Rilasciato Dal centro Di detenzione Di Osaka Partecipai Al raduno Di Osaka Presso la sala Civica Di Naka Noshima Dove Dichiarai Ai presenti Alziamoci E affrontiamo Questa sfida Con la convinzione Che l'insegnamento Corretto E chi si sforza Con tenacia Nella fede Abbracciando saldamente Il gonzo Sicuramente Saranno Vittoriosi Quello Era il mio voto Personale La mia certezza E al tempo stesso Ne sono sicuro Era l'ardente Determinazione Di tutti i presenti Tutti gli esseri umani Che siano Misconosciuti Dal mondo Poveri Afflitti Da sofferenze E difficoltà Hanno il diritto Di diventare felici Ogni persona Possiede Intrinsecamente Il potere Fondamentale Del Buddha Grazie Al quale Può Coraggiosamente Aprire la strada Per la propria E l'altrui Felicità E questo Non è qualcosa Che le autorità Possono infrangere O distruggere Nei primi tempi Del nostro movimento Ci siamo alzati In piedi Abbiamo affrontato Queste tempeste Per riuscire A costruire Un'epoca In cui Ogni individuo Potesse risplendere In quel periodo Scrissi Nel mio diario Noi Senza alcun dubbio Daremo corso A un'epoca In cui La verità Tionferà Sopra ogni cosa La vera essenza Dei maestri E dei discepoli Soca Consiste Nel rimanere Sempre uniti Nella nostra Comune missione Di fede Per realizzare Il grande voto Di Cosen Rufu Per la felicità E la vittoria Della gente comune E l'impegno Si trasmette Noi abbiamo Tenuto viva La fiamma Della missione Di Cosen Rufu Grazie al coraggio Di entrare In relazione Con gli altri Allargando La sfera Del dialogo Aiutando Una persona Dopo l'altra A creare Un legame Con il buddismo Del Daishonin Oggi Questa fiamma Arde In 192 Paesi Del mondo Creando Una vasta Rete Di rispetto Per la dignità Della vita Che unisce Persone Di tutto Il pianeta La sonora Recitazione Di Namio Renge Kyo Impregnata Della sincera Preghiera Per la pace Di tutta L'umanità Ora riecheggia Nel mondo Intero 24 ore Al giorno Senza Sosta I nostri Compagni Bodhisattva Della terra Si stanno Sforzando Con nobile Dedizione E fierezza Per realizzare La loro missione E contribuire Alla felicità Degli altri Grazie Alla loro Determinazione E al loro Impegno Stanno Costruendo Un movimento Sempre più Vasto E davvero Un'impresa Grandiosa Sicuramente La storia Vedrà Il nostro Movimento Dedicato Alla promozione Della pace Della cultura E dell'educazione Come un luminoso Faro di speranza E ci applaudirà Con vigore E soprattutto Sono assolutamente Convinto Che Nichiren Daishonin Loderebbe Il nostro Movimento Affermando Che è qualcosa Di veramente Non comune Teniamo alto L'invincibile Vessillo Dell'umanesimo E facciamo Del nostro Meglio Per costruire Un secolo Di vita In cui Il pieno Potenziale Di ogni Individuo Possa risplendere Intensamente Sono fermamente Convinto Che i miei Giovani Successori Erediteranno E porteranno Avanti Questa missione Per sempre Per sempre Grazie.